novena san francesco giorno sesto nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o dio vieni a salvarmi signore vieni presto in mio aiuto gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio re sempre nei secoli dei secoli amen la penitenza francesco era di costituzione gracile debole già dalla giovinezza eppure sottopose il suo corpo a penitenze e ristrettezze rigidissime la sua penitenza iniziò con l'amore verso i librosi un giorno cavalcando presso assisi ne incontrò uno e sebbene ne provasse non poca molestia e orrore pure balzò di cavallo e corse a baciarlo e il libroso tendendogli la mano come per ricevere l'elemosina ricevette insieme da lui il danaro e un bacio ed egli subito risalito a cavallo volgendosi di qua e di là ed era in un campo aperto senza alcun ostacolo allo sguardo non vide più il lebroso onde ripieno di meraviglia e di gioia pochi giorni dopo vuole ripetere l'atto si reca la dimora dei lebrosi e ad ognuno distribuendo l'elemosina bacia la mano e la bocca così prende le cose amare invece delle dolci e si prepara virilmente ad osservare gli altri comandamenti in seguito si ricotta i lebrosi e rimase con loro servendoli in tutte le loro necessità per amore di dio lavando i loro corpi deformati e tergendo la materia delle piaghe cielo ci assicura che prima della conversione francesco inorridiva la vista delle lebrosi e quando da lontano scorgeva i loro rifugi si turava le narici con le mani per il riposo francesco non voleva materassi o coperte egli si stendeva al suolo sopra la sua tunica e spesso per dormire stava seduto appoggiandosi ad un quangiale di legno o di pietra riteneva molto utile la mortificazione della lingua e per questo scrisse beato quel religioso che non trova giubilo e letizia se non nei santissimi ragionamenti e nelle opere di dio e con questi conduce gli uomini ad amare dio in gaudio e letizia e guai al religioso che si diletta di parole inutili e bane e con queste spinge gli uomini al riso nella vita di san francesco appare soprattutto evidente la necessità di mortificare la gola francesco martoriava il suo corpo astenendosi dal cibo e dal bere raramente nei periodi in cui era in buona salute ammetteva i cibi cotti quando li accettava li mangiava dopo averli mescolati con la cenere oppure li rendeva estremamente insipidi allungandoli con molta acqua egli era molto severo con se stesso ma nello stesso tempo era indulgente con gli altri e volle sempre che le penitenze dei suoi frati non fossero esagerate perché diceva che anche fratello corpo ha le sue esigenze che debbono essere soddisfatte affinché l'uomo possa impegnarsi nell'esercizio del dovere quotidiano e vegliare nella preghiera proponimento mortifichiamo i desideri del corpo affinché siano sempre subordinati alle esigenze dello spirito padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen san francesco prega per noi